Al Palavazieri di Campobasso si è svolta la seconda e decisiva prova del campionato di serie C Gold, zona tecnica 5, sezione ritmica della Federazione Ginnastica d'Italia, riservata alle società affiliate di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'evento è stato curato dalla società Sporting Bovianum con la direzione di gara di Fabio Gaggioli, la voce dei grandi eventi della Feder Ginnastica e del patrocinio della regione Molise, presidenza del Consiglio. Una importante competizione di alto livello tecnico che ha visto la partecipazione di 23 squadre per la qualificazione al campionato nazionale di serie B. A salire sul podio della giornata sono state nell'ordine ritmica De Giorgi di Vernola e Doria Jim di Taviano, entrambe di Lecce, terzo posto per la società salernitania Juvenilia di Cava dei Terreni, che si sono ripetute nello stesso ordine nella classifica finale stilata dalla segretaria di gara Maria Grazia Carrieri sulla scorta dei punteggi assegnati dalla giuria presieduta da Maura Roth. Tre le società molisane in gara, l'ASD Sporting Bovianum, l'ASD Futurgimica di Termoli e l'ASD Magic Gym di Campobasso. Presente alla manifestazione il vicepresidente nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia, Rosario Pitton, che noi abbiamo intervistato. Pochi anni fa era impensabile che si potessero svolgere delle manifestazioni di ginnastica di questo livello. Sicuramente la regione è in grosso fermento, questo lo si deve sicuramente all'opera del nostro delegato regionale della Federazione, Mario Perrella, che oggi purtroppo non è qui per un contrattempo, ma che sicuramente è l'artefice di questo movimento che sta crescendo. Ovviamente di pari passo allo Sporting Bovianum, rappresentato da Maria Antonietta Pollicella, che veramente sta dando prova di grande capacità nell'organizzazione di eventi di questa importanza. Ci dispiace l'assenza del pubblico, non solo, ma questa competizione era prevista al Pala Unimol, che invece è stato dedicato ai vaccini e quindi ci ha un po' penalizzato sotto l'aspetto organizzativo, perché quell'impianto avrebbe dato sicuramente maggiori opportunità. Comunque in assenza di pubblico va bene anche questo impianto. Devo segnalare anche tra l'altro la vicinanza del CONI, con il nuovo presidente Vincenzo D'Angelo, che sicuramente darà nuovo impulso anche alla nostra federazione, al punto che ha voluto in giunta Maria Antonietta Pollicella, che è la nostra rappresentante federale, quindi da lì sicuramente possono nascere delle collaborazioni che porteranno sempre più in alto la regione Molise. E questo è l'auspicio, perché io sono un cittadino napoletano, quindi sono rappresentante soprattutto di quella parità regionale. Non voglio dire che io tifo per il Sud, ma tifo per tutta l'Italia. E siccome i pesi e i contrappesi fino a pochi anni fa non erano distribuiti in maniera molto equa, mi sto premunendo di far sì che ciò possa accadere. Devo dire che anche l'affidamento da parte della federazione ginnastica a comitati come questo, del Molise e del Campobasso, vanno in quella direzione. Cioè significa che c'è sicuramente qualcosa che sta cambiando, in positivo. Vicepresidente, la ginnastica, come tutti gli sport, ha sofferto questo periodo, però la luce in fondo al tunnel si vede e bisogna essere anche ottimisti. Io innanzitutto vorrei ringraziare il presidente del CONI Giovanni Malagò, perché grazie al suo intervento, intanto il CONI ha ripreso parte di quelle che sono le sue funzioni vitali per lo sport italiano, non solo, ma ha consentito attraverso le attività di alto valore agonistico nazionale di poter svolgere queste manifestazioni, ma ancora più importante di poter continuare a far allenare gli atleti che oggi troviamo qui, le atlete che oggi troviamo qui in gara. Perché ovviamente solo coloro che hanno una finalità competitiva di questo livello hanno l'opportunità di allenarsi nelle rispettive palestre. Gli altri purtroppo sono a casa, chi non partecipa alle attività di alto livello purtroppo non ha la possibilità di allenarsi. Adesso con queste nuove aperture ci auguriamo che possa essere una cosa possibile anche per loro, perché ovviamente le società, è vero che contano sui loro campioni, ma la base è un motivo fondamentale, sia dal punto di vista economico, ma anche dei vivai. Se noi non curiamo i vivai, infatti io temo che avremo un buco di un anno, due anni nella produzione delle generazioni degli atleti, perché chi in questo momento non ha la possibilità di allenarsi è chiaro che non potrà mai emergere.